Sicuramente è positivo, incontri come questi vanno fatti perché sono importanti, il confronto con gli operatori, con gli stakeholder, con le associazioni, con la politica, con i tecnici sono fondamentali per capire i problemi della gente, i problemi del settore, perché altrimenti noi non possiamo soltanto produrre e poi dall'altra parte non conoscere i nostri operatori. Io do un voto molto alto anche per la grande partecipazione che c'è stata e per la qualità degli interventi, si vede che il problema, soprattutto nelle aree interne, l'argomento di tartuficoltura nelle aree interne è particolarmente sentito e questo ci fa molto piacere perché noi come Assam diamo un grosso contributo alla promozione e allo sviluppo della tartuficoltura, abbiamo qui un centro affermato, siamo qui nel centro di tartuficoltura riconosciuto, forse l'unico a livello italiano o comunque quello che ha maggiore storia a livello italiano e fare qui un programma, un seminario come questo penso che sia stata una scelta giusta da ripetere.